Sì? Che c'è? Stai studiando? Sì Ok Non ho avuto tempo di registrarlo Reccarlo Perché fa più figo E allora ho preso la palla al balzo E facciamolo speciale essendo iscritti Per lo speciale essendo iscritti Ci saranno ancora due video Molto Molto Fighi Allora Incominciamo Questo è un video per spiegarvi chi sono io veramente Io mi chiamo Riccardo E ho 13 anni E vengo da Torino Allora Ma questo non ce ne frega un cazzo Allora Vi dico le mie 5 grandi passioni Una di queste è una cazzata Scrivetemi nei commenti Qual è la cazzata Vabbè Conque La prima E la musica Perché mi piace La prima La prima Vabbè Conque La prima E la musica Perché mi piace Mi piace suonare la chitarra E mi diverte La seconda invece E la tecnologia Perché io e la tecnologia Siamo io Come Io E il mio cugino Sempre insieme Vabbè Comunque Io Cioè io sono uno smanettone seriale Cioè proprio tipo Tutto così E sto troppo al computer Troppo La mia terza tecnologica La sì La mia terza Passione Invece Sono i videogiochi Ebbene sì Sono affetto da una rara malattia Mi dispiace dirvelo Ma sono affetto dalla videogamita Un nuovo virus Contaggerà tutti Prima o poi Arrivederci Da presto I videogiochi Ok Basta Comunque La mia quarta passione Invece E lo sport Perché Io adoro lo sport Tantissimo Amo tantissimo lo sport Ultimamente purtroppo Sto facendo solo palestra Perché Football americano Che lo praticavo prima Non lo posso fare Più perché Si sono prolungati gli allenamenti E vale varie Quindi non posso più farlo Purtroppo E vabbè Mi accontendo della palestra Fra un po' Incomincerò un'altra attività E vale varie Allora Invece La mia Quinta Quarta passione E la scuola Perché chi è che non ama la scuola? Cioè Io e la scuola Veramente Siamo come Il burro su pane La nutella Sulle labbra E E Shish Vabbè Sì Certo Ci crediamo proprio tutti Che com'è la tua passione E la scuola Sì 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 E io sono invece Barack Obama Sì sì no Va bene Certo certo E Vi sto prendendo per il culo La mia quarta passione Invece È YouTube Perché per me YouTube È il massimo sistema Di esprimersi Di esprimersi Basta È una piattaforma Che permette Di Di esprimersi Appunto E E Cogliere Un attimo Che altrimenti Verrà dimenticato E imprigionarlo Dentro Dentro Il web Dove Possono vederlo Tutte le persone Al mondo È come me Che Io amo I videogiochi E Voglio trasmettere Questa Questa passione Di videogiochi Uno che grazie a me Scoprirà Che ne so Batman Arkham Knight Che ne so Che magari usciranno Dei video del canale Spoiler time E E Quello per me È la più grande Ricompensa Dopo La partnership Vabbè Invece la mia quinta Grande passione Sono Le lattine Eh sì Avete capito bene Io le lattine Veramente Che belle le lattine Guardate infatti Guardate Infatti Che belle lattine Che belle lattine Mette fuoco Video Video camera Lo sport È attaccato al muro La musica È attaccata al muro E la tecnologia È attaccata al muro È le mie grandi Passioni Attaccate al muro Passione bonus La mia sesta Passione Era Però non ci stava Sul muro Vabbè Per questo Era video Per questo Era video Era tutto Per questo Video era tutto Spero che vi sia Piaciuto tantissimo Il video Scrivetemi nei commenti Qual era la cazzata Commentate Lasciate un mi piace Se lasciate un mi piace Vi regalo un biscotto E una pizza Ehm 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 Condividete Ma l'ho già detto prima Forse Non lo so Iscrivetevi al canale E Ciao Ciao Ciao